Tante fughe hai provato, finalmente è arrivata quella giusta? O almeno quella che è da fine in fondo. Sì, erano un po' di giorni che provavo a cercare la fuga, ma per un motivo o per l'altro non mi riusciva, che sia fortuna o scaltrezza. Sì, oggi, che era anche il tappone principale, il tappone più duro della vuelta, sono riuscito a entrare. Niente, ho usato la testa perché già sulla penultima salita era staccato, ho già un bel po', però sapevo che davanti non potevano tenere quel ritmo e niente, non sono uno scalatore puro, io quindi mi devo gestire. Io sono sempre andato con il mio passo e sono riuscito a ottenere un buon risultato, sicuramente Schleck era un altro livello, quindi nessun rimpianto, nessun rimorso. Certo, Schleck è un altro livello, Torres è uno scalatore puro, in una tappa del genere non era certo facile, però comunque sono segnali importanti per te, per la squadra, per la nazionale, per tante cose. Sì, sì, sicuramente è un bel risultato, mi serviva anche per non fare una vuelta troppo in sordina. Comunque ti sei visto oggi, pensi di riuscire, adesso ci si riposa un po', poi magari qualche altro tentativo? Ma adesso valuterò per la cronometro, comunque è un bello sforzo, ma credo di farla tutta, cercare di fare un bel risultato, visto che probabilmente farò anche la crono del mondiale. E niente, poi nelle ultime tappe proverò ancora la fuga.